Ciao ragazzi e bentornati sulle storie di Federico! Oggi apriremo di nuovo la nostra scatola delle sorprese. Ma prima voglio far vedere una cosa. Voglio far vedere questo biglietto che mi ha scritto la mia amica e che ci manderà questo giocattolo. Ciao Fede, tieni a testa in giù la scatola delle sorprese. Questo regalo è per te. Beh, ce l'abbiamo già in testa in giù, giusto mamma? Sì, giusto. Apriamo. Ormai l'apertura è quella, vero? Sì. Cos'è? Ma mi sembra qualcosa di familiare. Sì, ho già visto. Oh no. Vabbè. Non so cosa sia. Come no? Ha un aspetto familiare, vero? Questo? Ma aspetta, ricorda qualcuno. Anche a me. E anche questo. E Witz! Witz? Allora questo deve essere un lemur. Pallino! Fammi vedere, vediamoli da vicino. Questo? Sembra Giulio. È Giulio! Fammi vedere. Questo sembra Catiniasus. È Catiniasus. Ma cosa c'è qui? Mauro! Bing! No! Cookie! Come mai? Non lo so. C'è un tiragraffio. Sì? Ma mi ricorda qualcosa che non mi ricordo cos'è, ma c'è qualcosa che mi ricorda. Eh sì. Cosa secondo te? Aspetta, qui c'è qualcosa. Vediamo Catiniasus. Anche Mauro. Uno! Ma è l'esterno, Federico. Quella palla di pello. Pallino? Signor Federico. E io? E Federico fa vedere. Allora, vediamo. Sì, allora Mauro. Ciao Mauro! Che bello. Però, oh no, il club è rotto. Eh, fa niente. No, preoccupatevi. Scusatevi, c'è il nostro super scaccio giusto a tutto. Sì, vediamo se... Oh, ma anche la zampa di Puolinino. Vabbè, dai, dopo la sistemiamo. Questo è il Puolinino. Ma c'è anche un pallino, guardate che bello, è veramente lui. E c'è anche la sua macchia. Ciao pallino. Ciao. Con il suo tiragraffi c'è anche il coffee. Più o meno. Dai, fai le vedere tu, qua. Più o meno. Allora, qui. Wow, c'è anche la sab... Cosa sono? Fagioli? Fagioli della pazzia anche qua, ma non scherzo. No! Quindi, eh, va bene. Cos'è la zampa di Puolinino? Sì, l'Ipuolinino. Ma cosa vedo io di rosso lì? C'è ancora qualcosa qui dentro. Cosa c'è? Sabbia! Davvero? Deve essere caduta... Mamma mia! Mamma mia, che disastro! Witz, fai qualcosa! No! Non ho più... E veramente? Witz! No! E questo è veramente un disastro! Questo sì, è un disastro alla piazza... Ah, la piazza rovina! Piazza rovina! E c'è Bing! Fatti vedere, Bing! Guarda come sei bello! E c'è anche il signor coniglio! Sì! Sì, sì, mi... Federico! Il tiragraffi di pallino! Miau, 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 miau! Miau, miau, miau! È tutto brutto con lo scotch! E vabbè, domani se lo sistemiamo... E poi c'è Mauro! Si è fatto bene! I capegnassos! È proprio brava questa amica! Ma... Sarà stata l'amica o... L'amica? Va bene! Sì! È l'amica che è, devo dire, molto molto brava! Fantastica! Sì! Poi, guardate, ha usato un filo! Sì! Del quinto insegno di... Categnassos! No! Ma veramente brava! No, è caduto, fa niente! E quello chi è? Giulio il coniglio, guarda! È proprio lui! Niente, domani magari gli diamo una sistemata! Guardate che bello! Ciao, Mauro! Li facciamo fare un bel castello di sabbia! Ma questa amica è veramente speciale! Perché ti ha regalato tutti i... Quasi tutti i personaggi delle storie di Federico, vero? Sì! A parte Wits non so come ha fatto a copiarlo! Magari ci avrà anche lei qualche... Eh, Wits è un po' lo conoscono tutti, vero? Eh, sì! Ma Polinino! Non si trova in giro a parte Luzzo! Eh, sì! Non so, nemmeno Categnassos! E domani guardiamo la faccia! E' proprio lui! Eh, sì! E' proprio lui con gli occhi gialli! Rotto! E' veramente, è proprio lui! Brava, brava, brava! Anche la coda! Ho appena scoperto una cosa! Guardate! Prendiamo Categnassos! Bobo, 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 Bobo! Categnassos sul tiragraffi di Pallino! Ma... Ma guarda qua! Pallino che bello! Ciao! Fatto anche con la pelle! Sì! Ciao Pallino! Peccato che non c'è Pallino qua! Chissà dove è Pallino! Va bene, dai! Ringrazia questa tua amica! Guarda che bello! Fa niente! Lo sistemiamo! Ringrazia questa tua amica! Che è stata davvero molto gentile! E gli facciamo i complimenti perché è una vera artista! Non so che mi ha fatto a copiare Pallino che solo io ce l'ho! Esatto! L'avrà vista nelle tue storie! Avrà stupato anche me! Chi fai vedere i cocchi? Cocchi! Nessuna noccia di cocco si è mai trovata così! Così? Eh, falla vedere! Eh! Fatta col penale! La giri verso Disney ma non verso la telecamera! Eccolo qua! Proprio vero! Una nocciola ha usato! Sì! Sì! Molto bello! Ma Bing puoi! Mamma mia! Proprio... Ha usato il tappo di sughero per questo, per questo! Tutto materiale riciclato! Brava, brava, brava! Vabbè che anche noi siamo stati bravi a fare quello! Eh, sì! Tu! 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 Tu sei stato bravo, vero? Aspetta! C'è ancora qualcosa? Cosa c'è? Ah! Mamma mia! Il marziano furioso! Questo poteva anche evitare di farlo, ma lo accogliamo nel nostro mondo delle storie di Federico, vero? Mi sta conquistando! No! Piazza rovina! Allora ciao! Sì! Sono felice! Ciao a tutti! Ciao! Ciao 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 ciao! Grazie.